Ehi, ciao amici, io sono Super Mario, e per il paese che ho pagato la Minda, ho chiesto la Vespa. Ascorda, io vi ho ammennato per la promenade a la Vespa. Voi ne vengono, d'accordo, non c'è problema, io prendo la classe sulle siège all'aria e io vi ho ammennato all'Italia. Ecoutez le chanson di mon paese, ecoutez tutti, arriva, tutti insomma. Che mazzurri di chiore che viene dalla montagna, che mazzurri di chiore. Ah, lo sapete, ma cerchendo il paese di sapere la Sardegna, che è la Vespa, la Lucio Svinesi e Carmonia. No, quello si fa a Carmonia, quella del Gialet e la Carmonia. L'ucio su il sur, non aveva mai un paese in Italia. D'accordo? Allora, vai qui, ho ancora un po' la musica, la musica italiana. Chi che lo faccia mai, lascia andare, chi che lo faccia mai. Eh, andiamo, vieni qua, vieni qua. La Vespa, ci abbiamo gli spiegel, come si passa la Vespa? Allora, c'è il retro, il primo, il grande, c'è il derriere, la Rode, sicuramente, le Ronde, come una Liona. Eh, una Liona, questo? Eh, le Ronde, la Ronde, non sa. Allora, in Settrespa, c'è il Rode, c'è la benzina, allora, e maintenant, c'è parte di Marley. Allora, i guti e vien, comunque, non è parte di Marley. Eh, che passa? Mamma mia, è scosata, è scosata. Eh, 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 eh.